Grazie a tutti. Sono molto contenta, anche perché è da tanti anni, quindi non è la prima volta, però sembra sempre che fosse la prima volta, ogni volta che vengo c'è sempre l'emozione, però è una cosa fantastica. Perfetto, allora tanti auguri, ci vediamo sul palco poi per il premio.